Signor Arnold! Signor Arnold! John, sono dentro! Dopo otto o dieci metri, troverà un corridoio attivo. Che segue il cavo principale. Sono capace di leggere uno schema. Non so, non so, non so. E' un vicolo cieco. Un momento. Aspetti un momento. Un momento. Sì. Un momento. Un momento. Guardi sulla sua testa. C'è un grosso fascio di cavi e di tubi che vanno tutti nella stessa direzione. Segua quello. Ok. Seguo le tubature. Ok. 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 Ellie, non si accende così l'interruttore principale. Per riuscire a caricarlo, devi inserire più volte la leva. Va bene, ci sono. Ok, caricato. Signora Hammond, ce l'abbiamo fatta! Signora Hammond. Ce la facciamo se corriamo? No, non si può. Perché? Perché quella ci sta braccando. No, non si può. 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 Non si può. Non si può. è in mezzo alla vegetazione andrà bene a Ah! Grazie a tutti. 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 Ecco un'altra curiosità. Grazie a tutti. a tutti. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 Là dentro. In sala controllo. Si può chiedere aiuto? Dobbiamo riavviare il sistema. Riavvia il sistema delle serrature. Riavvia il sistema delle serrature. Non ce la puoi fare da solo. Riavvia le serrature. Riavvia le serrature. Riavvia le serrature. Riavvia le serrature. Posta-a. Chi ti to fischiera a 60 anni. a school per lie facilities e l'ícchiare. B назвano di chi. Saucia di chi entrulandzo importante. Io Goddess Trenda viene perché alle nostre raccogl bullios. Riavvia! Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come on, relax! Grazie a tutti. 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 Questo deve essere il file giusto. Oh no, questo non va bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è tutto quello che vuole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Armand, i telefoni funzionano. E i bambini? No, no! Chiami la terraferma e gli dica di mandare quell'elicottero. Sta per sfondare il vetro! Sta per sfondare il vetro! Sta per sfondare il vetro! Agir ass densità perfettano sull'aria orare di spaccaindre il vetro. Lo senti con questa straletta per è Ikerno. Muovetevi, presto! Sì, 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 sì. No, no, no. E lo scivolo, presto! Forza, Team! Team! E lo scivolo, presto! Oh Alli, dis quoi ? Oh 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Oh 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 Grazie a tutti Grazie a tutti